Sono 40 i comuni toscani in cui le scuole di ogni ordine grado dal lunedì 8 marzo restano chiuse per limitare l'aumento dei contagi da coronavirus e delle varianti. In queste comuni le elezioni si svolgeranno esclusivamente a distanza. Oltre ai comuni in zona rossa, cioè i venti della provincia di Pistoia, Cecina e Castellina Marittima, le scuole restano chiuse in altri 18 comuni che sono in zona arancione ma in cui la situazione preoccupa. Questi comuni sono Anghiari, Castelfranco Piandiscò, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Sansepolcro, Castelnuovo Berardenga, Certaldo, Civitella Paganico, Bientina, Asciano, Chiusdino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, San Gimignano. Per questi comuni è stata firmata un'ordinanza dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni che si è confrontato con i vari sindaci e con il Comitato Toscano per l'emergenza e la prevenzione scolastica CEPS. Le scuole sono chiuse anche nei comuni di Arezzo, Siena e Follonica, in questo caso per ordinanza dei rispettivi sindaci. Erano 76 i comuni toscani che a ieri risultavano sotto osservazione per il loro alto valore di contagio, come indicato dal DPCM Draghi, cioè oltre l'indice di 250 contagiati sui 100.000 abitanti. La Toscana rimarrà in zona arancione per un'altra settimana. Grazie. 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 Grazie.